la mia pillola di podcast. Natural Woman è un viaggio attraverso le vite e le voci delle grandi interpreti femminili del mondo della musica. Il personaggio che raccontiamo oggi qui è Natural Woman, è una musicista straordinaria, una voce senza tempo le cui canzoni non dovrebbero mai mancare nella vita di ognuno di noi. I suoi brani sono stati e sono tuttora le colonne sonore della nostra vita tra film e spot pubblicitari, la sua voce dai Tony Black racconta con dolcezza, amori ed emozioni, una diva d'altri tempi, una voce sensazionale e sto parlando di Etta James. Etta James ha creato una forte connessione tra la sua storia e la sua musica e così facendo ci ha fatto affezionare in maniera inconscia e indissolubile al suo personaggio ma ancora di più al suo talento. La sua è una storia da bimba prodigio, a 5 anni inizia a cantare brani gospel in chiesa, a 14 anni avvia la sua carriera da cantante trasferendosi a San Francisco contro la volontà della famiglia. La voglia di fuggire è tanta dal momento che la sua infanzia non fu Rosa e Fiori, passando da una famiglia adottiva all'altra. E le violenze subite da bambina la portano verso i 17 anni a cadere nell'oblio dell'eroina. Tuttavia in questo periodo tra gli anni 50 e 60 aiutata da amici e produttori inizia a pubblicare alcune tra le sue canzoni più note, come ad esempio la bellissima A Sunday Kind of Love. Con Ed Lest nel 1961 raggiunge il trionfo internazionale. Nel brano parla di un amore finalmente giunto e lo fa con energia e un tono quasi paradisiaco, avvolgente, caldo. Nel 1962 è il grande successo con Something's Gotta Hold On Me, un pezzo unico che si apre con un intro a cappella da pelli d'occa, un brano che tra l'altro è stato ripreso e campionato da molti musicisti contemporanei, come ad esempio Avicii qualche anno fa con Levels. Etta James nel corso della sua carriera vince ben 17 Blues Music Awards, nel 1993 viene inserita nella Rock'n'Roll Hall of Fame e per chi segue i miei podcast sa che sono un amante di queste voci così calde e affascinanti da altri tempi. Etta James fa parte di questo circolo di artiste che amo molto e sicuramente è una Natural Woman. La mia pillola di podcast termina qui, vi ricordo di seguire le pagine Facebook, Instagram e YouTube, il podcast, vi ricordo di seguirmi su tutti i portali da Spreaker a Apple Podcast fino a Spotify. Io sono Beatrice, questa era Etta James e questo è Natural Woman.